Benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo video su i migliori mascara 2021 secondo la classifica del web, fonte attendibile Google Shopping che racchiude tutte le review del web sia in numero ma anche in versione di stelline quindi da quello che ha in base al numero di recensioni la stellina più alta, quella più bassa e poi magari più avanti invece farò proprio la mia classifica dei mascara che proverò però essendo che appunto siamo a marzo, di solito io questo video lo faccio a metà anno proprio perché almeno ho testato il più possibile mascara non è che ci metto due minuti a finire un mascara e quindi di solito la classifica arriva a metà anno andiamo subito su Google Shopping e andiamo a vedere quali sono i mascara più votati allora al primo posto abbiamo Maybelline New York del Rocket Mascara Very Black che appunto ha 683 review ma quasi 5 stelline complete al secondo posto abbiamo di The Balm Mud Lash Mascara Effetto Volumizzante Colore Black che si trova su un notino 8,40€ e ha 2487 review ed ha anche lui quasi 5 stelline al terzo posto abbiamo Chanel L'Evolume Revolution de Chanel Mascara 10 Noir che appunto ha 3662 review e quasi 5 stelline tenete conto che io i mascara di Chanel li uso regolarmente e allora questo lo comprerò perché mi incuriosisce ma quello che vi sto per dire è il mio mascara in assoluto preferito da sempre mi ricordo addirittura che prima di comprare la full size mia sorella l'aveva trovato in un giornale un campioncino e visto che qui da noi non esiste la profumeria nel senso sapete che abito in campagna e sì ci sono le profumerie ma anni fa a piedi erano un po' raggiungibili mia sorella si era comprata e era andata in tutte le edicole della zona a comprare tutti i giornali per prendersi sì quindi mini mascara che secondo me a un certo punto faceva prima comprarsi il mascara enorme ma questa è una piccola chicca e il mascara di cui vi parlo nel quarto posto è Chanel Noir Inimitable Intense la versione appunto 10 waterproof con appunto la versione Noir poi abbiamo Diego Dallapalma Black My Toy Boy Mascara che costa 27,99€ da Douglas Douglas come lo vogliamo chiamare Diego Dallapalma io ancora non ho provato niente ma sono molto incuriosita perché ne parlano tutti ne parlano tutti benissime quindi sono molto incuriosita poi abbiamo Lancome Monsieur Big Mascara Extra Volume edizione limitata a colore 01 Black che si trova su notino a 21,50€ poi Benefit Cosmetics Mini Gimme Brow più mascara volumizzante sopracciglia 16€ questo è delle sopracciglia però io invece di questa versione della Gimme Brow ho provato la matita sopracciglia perché quando sono andata a comprare da Sephora appunto ora indecisa se prendere il mascara o la matita ho preso la matita ed è stupenda infatti appena si potrà raggiungere Sephora ci andrò purtroppo già questa settimana ieri ho dovuto fare diversi ordini online per delle cose appunto naturali che qui nella mia zona non riesco a trovare quindi non ho avuto alternative però sto provando laddove riesco a raggiungere il posto ad andare di persona poi L'Oreal Paris Fals Lush Telescopic Mascara Allungante tonalità Magnetic Black che costa 5,81€ su profumicità.it poi abbiamo Lancome Hypnose Mascara Extra Volume colore 11 Extra Black 26,40€ su notino questo è il mio secondo mascara preferito non so se ne ho parlato nel video dei mascara 2020, 2019, 2018 se ne ho parlato addirittura molto prima perché anche questo mascara io lo uso da moltissimo tempo questo nelle profumerie vicino a casa mia c'era per fortuna poi Lancome Hypnose Volume A Portere mascara lunga tenita per ciglia voluminose curve 01 Intense Noir Intense ho provato anche questo costa 24€ ho provato anche questo uno mi pare che è la versione waterproof uno no no sono tutte e due waterproof li ho provati tutte e due mi sono piaciuti tutte e due non ho preferenze Lancome per i mascara mi piace da morire e quindi ve li consiglio poi abbiamo L'Oreal Paris Volume Million Lashes Couture Mascara per ciglia curve voluminose e colore black 7,90€ su notino e ragazzi ci fermiamo qua quindi questi sono tutti i mascara più votati per ora mando un bacio noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao